Crescendo ho avuto il privilegio di non vivere in un ambiente degradato il che non significa che ho vissuto in un ambiente borghese non significa che ho vissuto in un ambiente ricco i miei genitori sono delle persone umili hanno sempre lavorato e mi hanno tirato su in un ambiente che appunto non si può considerare degradato perché premetto questo ci arriviamo tra poco il punto è che non significa che io non abbia frequentato ambienti degradati, ne ho frequentato tanti ho frequentato tante persone che vivevano vari livelli di difficoltà ed è per questo che spesso dico che se ai miei tempi ci fosse stato internet non faremmo i discorsi del ah la gioventù di oggi fa cose pazze i giovani di un tempo non le facevano non è vero, io ho visto cose molto 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 peggiori di quelle che si raccontano su internet e sui giornali mi riferisco alle situazioni delle baby squillo e mi riferisco alle situazioni di bullismo ho visto un sacco di roba e sicuramente come me un sacco di persone della mia generazione e quando sono venuto a contatto con certi tipi di realtà alcune volte per scelta alcune volte perché semplicemente capitava avevo già gli strumenti per capire che alcune strade non mi avrebbero portato da nessuna parte e non che avessi una chiara idea di che cosa sarebbe stato il mio futuro anzi non avevo la minima idea di quello che sarebbe stato il mio futuro ma sapevo quale non sarebbe stato il mio futuro se non avessi avuto alcuni tipi di strumenti e il fatto che io avessi certi tipi di strumenti il fatto che abbia continuato la scuola il fatto che abbia una buona istruzione e abbia idea di che cosa posso fare nella vita non dipende da me principalmente dipende da chi mi ha dato questi strumenti la scuola, i miei genitori l'ambiente che mi è stato fatto frequentare quindi in buona parte molte cose non sono dipese da me sono dipese da altri venerdì è morto un ragazzo un ragazzo di 17 anni che si chiamava Davide ed è morto a Napoli non ho potuto fare a meno di pensare che Davide sarebbe potuto essere tranquillamente uno di voi proprio un ragazzo di 17 anni come ce ne sono tanti tra la gentaglia proprio di Napoli magari, magari seguiva Breaking Italy magari era una di quelle persone che mi guarda tutti i giorni o forse no che è abituato a sentire la mia voce o forse no a considerarmi un amico o forse no insomma il punto è che la sola idea che questo ragazzo ci fosse che avesse tutta la vita davanti e che adesso non ci sia più è straziante questo ragazzo è morto a causa di un colpo d'arma da fuoco che lo ha raggiunto al petto e lo ha raggiunto al petto durante un inseguimento un inseguimento nel quale da una parte c'era questo ragazzo dall'altra parte un carabiniere che avrebbe apparentemente da quanto ha inizialmente dichiarato sparato accidentalmente un colpo uccidendo il ragazzo ora potrei fermarmi qui moltissime persone direi la maggior parte delle persone che commentano su internet non la maggior parte delle persone in genere però la maggior parte delle persone che commentano su internet sembrano aver semplicemente bisogno di questi elementi per analizzare la vicenda quando si inizia a scavare nella vicenda la situazione diventa più complicata però soltanto per le persone che vogliono effettivamente farsi un'idea della cosa capire quanto complessa possa essere ma anche quanto semplice possa essere se non la si vuole buttare in cacciara gridando Stato Mafia o gridando ACAB o gridando Napoli Merda o gridando qualsiasi altra stronzata che sia stata urlata per partito preso in questi giorni alcuni dicono che Davide che era assieme ad altre due persone sul motorino e girava a tardanotte su questo scooter abbia forzato il blocco della polizia perché lo scooter era guidato senza patentino e senza assicurazione non c'era assicurazione sullo scooter il che significa che non solo è un reato ma se investi qualcuno e gli fai male non c'è l'assicurazione che copre i danni per questa persona i soldi andrebbero cacciati dalla tasca di chi ti ha investito alle volte questo non accade semplicemente perché la persona che ti investe non ha tutti i soldi per coprire metti le tue spese mediche per questo che esistono le assicurazioni questo scooter non aveva assicurazione e anche in mancanza di patentino i ragazzi avrebbero deciso di sfondare il blocco ma altri dicono che non è così visto che uno dei tre ragazzi sullo scooter ricordiamo che in scooter non si può andare neanche in due quindi figuriamoci in tre sarebbe un latitante evato dagli arresti domiciliari a febbraio il che significa che è stato processato è stato condannato a della reclusione che però doveva passare a casa e invece ha deciso di passarla in giro di fatto evadendo quindi cerchiamo di essere chiari su questa cosa poi arriverà l'autopsia adesso ci sarà sicuramente un processo si capirà che cosa effettivamente è accaduto è stato un incidente? secondo me probabilmente sì dubito fortemente che questo carabiniere chiunque gli sia qualsiasi sia il suo passato qualsiasi sia il suo vissuto volesse effettivamente uccidere un ragazzo di 17 anni personalmente ne dubito potrebbe anche essere potrebbe essere qualsiasi cosa però personalmente ne dubito non è stata un'esecuzione ora il carabiniere avrebbe dovuto sparare secondo me probabilmente no personalmente non credo che abbia inciampato gli sia partito un colpo di nuovo potrebbe essere però ne dubito probabilmente magari ha sparato perché voleva spaventare le persone che scappavano perché dubito che poi sapesse che sullo scooter c'era un 17enne poteva essere un 20enne un 23enne magari ha deciso di sparare in aria come avvertimento e invece ha sparato al ragazzo tutti quelli che adesso stanno gridando al fatto che lo stato non c'è che comanda la camorra che c'è tanta delinquenza che i ragazzi vengono su in ambienti degradati che c'è un abbandono scolastico incredibile per cui molti di questi ragazzi non finiranno mai nemmeno le scuole superiori e non avranno mai idea di che cosa li circonda a parte le robe che imparano lì sulla strada non riescono a fare il collegamento che tutta questa situazione probabilmente tutta questa delinquenza tutto questo strano mondo creino poi un ottimo ambiente perché questo tipo di cose accadano e voi ditemi la verità ci lavorereste in un ambiente così come carabiniere? cioè prendereste una paga che è obiettivamente sottodimensionata per fare questo tipo di lavoro in posti pericolosi dove se sbagli giustamente paghi ma non solo viene anche messo all'agogna pubblicamente e non solo ma devi anche tenerti sulle spalle tutto il peso di ciò che significa la gente che si lamenta perché io la trovo davvero ridicola e poi tutte le manifestazioni di violenza che ci sono state successivamente ovviamente i cortecis stanno le persone che hanno perso un ragazzo nel loro quartiere che hanno perso un nipote un familiare un amico che manifestano è normale che lo facciano ed è giusto che lo facciano ma quando la manifestazione diventa contro lo Stato quando diventa bruciare le macchine della polizia quando diventa assaltare le caserme quando diventa dire cose come lo Stato ci uccide la camorra no perché la camorra non avrebbe mai ucciso un 17enne che è una stronzata è una cosa palesemente falsa ecco tutte queste persone che sono così indignate che vanno sotto le caserme a dire che lo Stato uccide i cittadini vanno anche sotto le case dei mafiosi a bruciare le loro macchine quando questi invece in un modo o nell'altro causano la morte di qualcuno negli stessi posti perché secondo me no quindi tutto questo non può diventare guerra allo Stato e non può diventare guerra al ragazzino che è dipinto come un grande criminale ma è in realtà un'altra vittima secondo me in questo caso siamo davanti a due vittime siamo davanti a una vittima che è il carabiniere che ha fatto una stronzata ha sbagliato e se ha sbagliato pagherà ed è giusto che paghi e siamo davanti a un ragazzino cresciuto in una zona di merda probabilmente in un ambiente di merda che trova assolutamente normale che tutto questo accada peraltro ha 17 anni assolutamente normale in giro in tre senza niente alle tre del mattino yeee normalissimo è solo un giretto non è solo un giretto e non fatevi dire né che era solo un giretto né che il ragazzo era lupo in terzo era probabilmente figlio di un ambiente molto degradato come tranquillamente sarei potuto essere io ai miei tempi se i miei genitori fossero stati diversi se l'ambiente fosse stato diverso e se non avessi avuto gli strumenti per decidere di non essere così per sapere che potevo non essere così magari sarei stato così magari sarei stato Davide o magari non Davide ma una delle tante persone che ho conosciuto e che sono state molto vicine a me dei periodi e che in realtà erano lontanissime da me sotto altri aspetti e alcune di loro adesso fanno delle vite di merda e alcuni di loro adesso non ci sono nemmeno più ora di chi sono le responsabilità è difficile dirlo secondo me puntami il dito è sbagliato dire è colpa di quello è colpa di quello è ciò che tutti gli italiani fanno sempre continuamente ed è probabilmente la ragione per la quale non tutti i ragazzi hanno poi strumenti per migliorare situazioni di questo tipo quindi lo Stato vogliamo dare la colpa allo Stato no sarebbe il caso che per una volta lo Stato dicesse sì effettivamente un po' è colpa nostra vogliamo dare la colpa alle forze dell'ordine no sarebbe per una volta il caso che le forze dell'ordine dicessero alle volte sì sbagliamo anche noi ma non possono porgere l'ultima fetta di responsabilità a tante delle persone che sono andate in piazza a manifestare a dire lo Stato è peggio della mafia lo Stato ci uccide la camorra no siete sicuri che voi non avete alcun tipo di responsabilità vogliamo davvero davvero credere che in una situazione come questa molto più ampia della morte di Davide ci siano delle parti che hanno delle responsabilità e delle parti che ne sono completamente esenti per una volta ce la facciamo a non discutere di quella che è palesemente una fatalità potrebbe essere l'errore di un carabiniere potrebbe essere qualsiasi cosa quindi prendere questa storia e dire è una triste triste storia la triste triste storia di Davide ma poi a focalizzarci invece su quali siano le metodologie per non far cadere più queste cose invece di litigare continuamente e dire aveva ragione il carabiniere hanno ragione i cittadini del rione qualsiasi cosa fosse ma questo gentaglio è tutto quello che ho da dirvi per oggi grazie per aver guardato grazie ad Alessia e Andrea che sono il nostro alfiere la nostra regina per oggi li incoloniamo perché sono carinissimi e scusatemi se la puntata di oggi è stata monotematica ogni tanto vengono fuori così vi ricordo che questa è l'ultima settimana per votare ai Macchianer Awards dobbiamo vincerli quindi vi lascio un link in descrizione se non aveste votato e non sapeste di cosa sto parlando e ci vediamo domani alle 18 e ci vediamo domani